Ciao, io sono Ale, benvenuti e benvenute in questo mio nuovo video. Questa sera sono qui per fare un video di mouth sounds puri perché è una tipologia di trigger che mi piace tantissimo e che io ascolto molto spesso quando devo dormire. E quindi appunto siccome era da un po' tempo, da qualche mese che non ne porto da fuoco, ho deciso di farne una nuova versione per voi. Quindi direi di iniziare, ne faccio un po' così senza nessun altro trigger, poi invece assieme al gelatino squishy, giusto per cambiare un pochettino. Spero che mi piacciono, un po' relax. Ciao. 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 a presto 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 a presto